Subito rilancio di Burriello, ottimo per Mirko Vucinic che riesce a portarsi avanti il pallone, punto verso l'area di rigore, ancora Mirko in area di rigore, ancora Mirko! Un colpo da biliardo, un colpo da biliardo da parte di Mirko Vucinic in area di rigore, ha puntato Gustavo si è poi aperto uno spiraglio con la punta del piede destro, ha messo alle spalle di Rosati, un colpo da biliardo, non esulta ogni volta che segna a Lecce, ma non è l'importante che comunque continui a segnare anche a Lecce, riesce a portare in vantaggio a Roma, ottavo gol, ottavo gol in magna giallorossa per lui, il gol da parte di Mirko Vucinic alla 32esimo minuto, un colpo proprio da biliardo da parte di Mirko Vucinic, lo ha piazzato con la punta del piede, Roma che passa in vantaggio al 32esimo minuto, un risultato assolutamente importante.